Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo decreto ha fatto sì che noi dopo 17 anni di silenzio, perché noi il diritto a parlare, la libertà di stampa non l'abbiamo mai conosciuto, ci consente di venire su questo palco davanti a questo pubblico a livello nazionale. Dopodiché che cosa chiediamo al governo? Quello che chiediamo da tanto tempo non sono riuscita a contare i comunicati che abbiamo fatto nel corso di questi ultimi 5 anni per quello che riguarda il disegno di legge sulle intercettazioni. Le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per la magistratura, altrimenti noi non avremo mai più la verità sulle stragi del 1993. Vogliono eliminare le intercettazioni perché non vogliono quella verità. Vogliono eliminare le intercettazioni, le vogliono limitare, le vogliono distruggere come hanno fatto con il controllo sui tabulati telefonici del 1998, quando la verità stava già uscendo in questo paese. Quindi noi chiediamo, coraggio ragazzi, lasciate perdere queste intercettazioni, fate sì che i magistrati possano usufruirne pienamente e questo paese che ne ha diritto insieme a noi sappia chi insieme alla mafia ha voluto la strage di via dei Giorgocidi il 27 maggio del 1993. Grazie, grazie signora. Grazie signora, grazie signora, Nicola Biondo, nel libro Il Patto tu scrivi che sta nascendo, sta avvantando una nuova mafia. Di che cosa parli? Che cos'è questa nuova mafia? È la mafia dei colletti bianchi, quella che rifiuta di farsi intercettare, quella che non si è sporcata direttamente le mani. Ed è questo uno degli obiettivi di questa legge. Fare in modo che chi ha gestito i servi, e i servi sono stati Provenzani, Rina, persone che hanno fatto le strage e le hanno fatte per un'entità esterna, chiaramente, politica, queste persone non vogliono far sentire le loro voci. C'è un'intercettazione telefonica del 2001 in cui due mafiosi parlano e c'è una frase agghiacciante. Abbiamo ucciso dalla Chiesa per fargli un favore. Il nostro paese è anche questo. Sono stati arrestati degli imprenditori, proprio grazie alle intercettazioni di recente. Esattamente. A Trapani gli ultimi quattro capimafia erano imprenditori. Sono stati intercettati per banali frodi. Gli investigatori hanno grattato la scorza di questi uomini di successo e hanno capito che erano mafiosi. Ecco qual è la nuova macchia. La nostra ossessione è capire quali mani stanno stringendo. Perché noi potremmo anche sapere chi ha messo queste bombe, ma la verità è che vogliamo sapere il perché. Perché questo paese è un paese senza verità. Dopo tutte le stragezioni in lato ci dicono che non possiamo ascoltare il potere. E questo è ignoso. Io voglio invitare anche Roberto Rossi che ha scritto avamposto perché dove esiste la criminalità esistono dei giornalisti che scrivono di criminalità e rischiano tutti i giorni la vita. Perché subiscono intimidazioni, perché subiscono minacce, perché gli vengono bruciate le macchine, perché i loro figli a scuola si sentono dire dai loro compagni io con te non gioco perché sei figlio di un infame. Questo paese è questa regione dove ci sono soprattutto giornalisti minacciati e la Calabria, ma ci sono le regioni del sud, come ci ricorda Walter Molino. Roberto Rossi, sei uno di quei freelancers, di quelli che per lavorare deve fare tanta fatica e ti occupi anche dei giornalisti minacciati. Cosa hai trovato in Calabria? Io ho trovato in Calabria ho trovato i cento passi, i cento passi raccontati dal film di Matteo De Giordana. Sono ancora oggi in un territorio come quello che ha la presa, dove scrivi e poi ti ritrovi la mattina stesso in cui il tuo articolo è uscito, un giornale, magari un posto, un legame o un ragione che ti chiede, ma tu sicuramente non in maniera, ecco, di vita c'è, di continuare a fare silenzio. Molto isolamento, sono un sacco di colleghi, molto spesso, spesso sono giovani, senza questione utile, che hanno dato molto poco per fare con passione il loro lavoro, rischiano veramente continuamente. Grazie a tutti.